Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale in questo venerdì molto caldo di luglio perché finalmente proprio oggi Rockstar Games ci ha fornito dettagli su quelli che saranno i prossimi DLC in arrivo su GTA Online e soprattutto su Red Dead Online, quindi se state aspettando un DLC per entrambi i giochi questo video fa per voi perché vi andrò ad elencare quelle che saranno le novità rilasciate proprio oggi da Rockstar Games io speravo tantissimo ragazzi di fare questo video e da tanto che stiamo tutti insieme aspettando delle notizie da parte di Rockstar Games che non si stava più facendo sentire con questi nuovi aggiornamenti infatti io su Instagram qualche giorno fa vi dissi ragazzi se non esce nulla, se non esce nessuna informazione entro luglio purtroppo non riceveremo nessun DLC estivo né per GTA e né per Red Dead Online ma fortunatamente ragazzi proprio oggi Rockstar Games si è pronunciata non ha rilasciato tantissimi dettagli quindi purtroppo non abbiamo molti dettagli in merito soprattutto non abbiamo molti dettagli per quanto riguarda GTA Online mentre per Red Dead ci ha fornito più dettagli ma adesso ne parliamo con calma allora partiamo dal DLC di Red Dead Online per quanto riguarda Red Dead Online abbiamo una data di uscita infatti questo nuovo aggiornamento uscirà martedì 28 luglio quindi ragazzi tra pochi giorni e cosa conterrà questo DLC? quello che sappiamo è che ci sarà un nuovo ruolo quindi una nuova professione e Rockstar Games ci ha fornito anche degli indizi su quello che sarà questo nuovo ruolo al momento noi abbiamo su Red Dead Online il ruolo da collezionista cacciatore di taglie, commerciante e poi anche il produttore di Moonshine con il DLC del 28 luglio avremo sicuramente un ruolo dedicato alla caccia di animali infatti attraverso queste immagini che state vedendo che ha rilasciato oggi Rockstar Games ci ha fornito degli indizi su quello che sarà il prossimo ruolo la prossima professione che riguarderà ragazzi molto probabilmente la caccia quindi una caccia più strutturata in cui andremo a cacciare e vendere pelli di animali e molto probabilmente anche carne di animale e ragazzi il tutto molto probabilmente sarà molto più strutturato come detto prima rispetto a quello che sostanzialmente facciamo in Red Dead Redemption per quanto riguarda la caccia ci sarà anche un nuovo passo fuori legge ci saranno nuove funzionalità e correzioni che sono state richieste dalla community e questa è una cosa molto positiva perché purtroppo Red Dead Online non funziona benissimo ci sono molti bug, problemi con i server e inoltre le funzionalità non sono delle migliori e vanno sostanzialmente migliorate e poi ragazzi c'è molto molto altro che Rockstar Games non ci ha voluto dire ma ci ha dato un piccolo spoiler dicendo che molti altri contenuti verranno poi scoperti nei mesi futuri quindi entro la fine dell'anno Rockstar Games scrive che sia i giocatori di GTA Online che i giocatori di Red Dead Online avranno aggiornamenti molto importanti quindi da adesso ragazzi da quando usciranno questi DLC quindi per Red Dead Online dal 28 luglio fino alla fine del 2020 avremo un Red Dead Online e anche un GIT Online in continuo aggiornamento molto probabilmente rilasceranno qualche piccolo contenuto ogni settimana fino a dicembre o comunque un nuovo DLC poi verso Natale come è solita fare Rockstar Games bene questo è per quanto riguarda tutto ciò che sappiamo sul prossimo DLC di Red Dead Online passiamo a GTA Online per quanto riguarda GTA Online non abbiamo ancora una data d'uscita ma uscirà questo nuovo DLC quest'estate quindi secondo me qualche settimana dopo l'uscita dal DLC di Red Dead Online comunque anche subito dopo ragazzi non sappiamo ancora una data ma sicuramente uscirà tra la fine di luglio e gli inizi di agosto questo DLC per GTA Online Rockstar dice che ci saranno una serie di nuovi e divertenti contenuti tutti da sperimentare ma non si è sbilanciata al riguardo ma ragazzi una cosa molto molto figa a parte questa immagine che ha rilasciato è che GTA Online sta per ricevere l'aggiornamento più grande di sempre con colpi quindi nuovi colpi ragazzi nuove rapine in una località completamente nuova ora bisogna interpretare bene che cosa intende Rockstar Games per località completamente nuova perché può intendersi come rapinare qualcosa di completamente diverso che aggiungeranno all'interno della mappa come è successo per esempio col casino che è stato diciamo tutto ristrutturato oppure ragazzi ci sarà qualcosa di nuovo un pezzetto di mappa aggiuntiva non lo so non credo comunque quando dice località completamente nuova penso che aggiungeranno qualcosa di nuovo all'interno della mappa che già esiste fatto sta che riceveremo un aggiornamento molto grande il più grande di sempre come ha scritto Rockstar su GTA Online quindi io non vedo l'ora di scoprire quale sarà questo colpo enorme questa rapina, questo aggiornamento più grande di sempre che riceveremo su GTA Online io ragazzi sono già proiettato molto più su GTA Online rispetto a Red Dead lo sapete perché io non gioco molto a Red Dead Online e quindi ho molta più hype per quanto riguarda GTA però la maggior parte di voi che mi seguite sono molto più in hype per quanto riguarda Red Dead Online quindi ragazzi sommariamente facendo un riassunto queste sono le novità che abbiamo un aggiornamento, il più grande aggiornamento di GTA Online che uscirà quest'estate ma non abbiamo ancora una data d'uscita e un aggiornamento per Red Dead Online in arrivo martedì 28 luglio con una nuova professione, nuovo pass fuori legge e nuove funzionalità e molto altra ancora che ripeto ancora non conosciamo ovviamente continuate a seguirmi sul canale ragazzi per rimanere aggiornati se Rockstar Games pubblicherà qualche piccolo aggiornamento io non è che farò ad ogni piccolo aggiornamento ad ogni piccola news diciamo un video su YouTube quindi seguitemi su Instagram per rimanere costantemente e in tempo reale aggiornati mi chiamo Quenti.Channel su Instagram e poi ragazzi appena usciranno questi DLC sia per quanto riguarda Red Dead Redemption che per quanto riguarda Grand Theft Auto vi porterò i vari contenuti sul canale poi faremo delle live, ci divertiremo insieme insomma ragazzi diciamo che l'estate sta per iniziare anche per quanto riguarda noi appassionati di Rockstar Games e quindi appassionati sia di RDR che di GTA e niente io spero che questo video news vi sia piaciuto e spero sia stato abbastanza chiaro noi ci vediamo al prossimo video e ci sentiamo qui sotto nei commenti per aprire dei dibattiti o se avete delle domande e ci sentiamo anche su Instagram noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti